Recentissimamente, il piacere di conoscere le vostre impressioni, al di là dei repetti archeologici che certamente non sono nel quantitativo in genere, sono pochi interessanti e poi soprattutto comprendere il posto e del perché arrivavano qua. No, devo dire che sono rimasta veramente colpita, sia dalla villa innanzitutto che non conoscevo che è magnitica e che si è appreso un paesaggio veramente incredibile, poi anche l'allestimento si mostra, mi è piaciuta molto, sia per tutta la parte carica che si fa vedere cose che normalmente a compa e non vediamo, che non conosciamo, quindi ho visto finalmente anche qualcosa di diverso, bellissime cose artiche. Soprattutto la sala dedicata appunto a Campanella dove al Tempio di Atene con la iscrizione medica e scuratore, la scala, il Tempio dedicato ad Atene. Ho solo visto nei libri, studiato e quindi vederlo dal vivo, mi fa sempre quanto piacere. Mi fa piacere, sentitevelo dire, mi fa piacere che siete qua, vi prego di passare parola. Assolutamente perché merita e devo dire che tu lavorai da Pompei da tanti anni, conoscivo Napoli ma questa zona non la conoscivo perché se aspetti ed è stata una bellissima scoperta. Questa visita comunque è stata per voi una condanna perché noi la inseguiremo alla ricerca dei termini di paragone con i nostri reperti, quindi quelli che vengono fuori a Pompei se ce li raffrontate daranno più profondità. Sono simili ma voi avete il quinto secolo che a noi ci manca, quindi almeno qui la possiamo vedere. Grazie, grazie a voi. Grazie a voi, grazie.